Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming. Quest'oggi su Destiny come ogni venerdì andremo a vedere insieme cosa ha da vendere Xul. Per la classe titano vendrà il casco di luce intima, un casco esotico da utilizzare con la sottoclasse Assaltatore che avrà come bonus speciale quello di farvi utilizzare alla fin fine tutti i bonus disponibili appunto per questa sottoclasse per l'abilità speciale. Di fatto però non è un pezzo d'armatura troppo valido e a meno che non vi serva proprio un casco esotico o non lo vogliate avere per collezione vi sconsiglio di acquistarlo. Per la classe cacciatore vendrà la macchina da ballo radiante, un pezzo d'armatura esotico per gli stivali l'unico al momento disponibile per il cacciatore totalmente inutile nel PvE che potrebbe avere qualche applicazione nel PvP se vi concentrate a giocare sul gun on gun se vi concentrate molto a utilizzare le vostre armi, mirare e tutto uno stile di gioco che va intorno a questo. Di fatto però è molto limitato come pezzo d'armatura quindi diciamo che anche nel PvP sta a voi decidere se vale la pena utilizzarlo e se va bene col vostro stile di gioco. Dovrete provarlo. Acquistarlo o non acquistarlo? Io direi che alla fin fine conviene acquistarlo e perlomeno provarlo. Per la classe dello stregone vendrà le vesti del morso vuoto. Come vi ho detto ormai 200 volte visto che le avrà già vendute 200 volte. Buon pezzo d'armatura da utilizzare con la sottoclasse camminatore del vuoto. Non il migliore per lo stregone ma lo stesso valido. Quindi vi consiglio di acquistarlo. L'arma esotica di questa settimana infine sarà l'ultima parola. Una revolver, una cannone portatile molto molto forte nel PvP, abbastanza scarso nel PvE ma alla fin fine. Un'arma del genere va utilizzata esclusivamente nel crogiolo. Questo grazie a dei bonus ottimi che la rendono perfetta sia nel close range che nel long range. E che quindi la rendono molto versatile, molto forte e senza ombra di dubbio una delle migliori armi da utilizzare nel PvP. Infine oltre al frammento esotico Xur venderà un ingramma esotico per il petto e ancora le sintesi pesanti che a questo punto penso porterà tutte le volte. Quindi ragazzi dicendo questo il video volge il termine. Questo è quello che vendeva Xur questa settimana. Da parte mia è tutto. Vi ringrazio per la vostra attenzione e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti.